Grazie per essere presenti alla premiazione della gara di oggi, abbiamo avuto il piacere di ospitare la Sapore di Toscana e il World Cup, la gara si è disputata con Formula Stem e Ford, due categorie. I livelli sono offerti da Sapore di Toscana, che ringraziamo per il supporto, per la presentanza dello sponsor Luigi Cutrone. Bene, bravo Luigi. Sapore di Toscana, come sapete da ormai di molti anni che fa le gare, noi siamo qui per i regali che ci mette a disposizione. Grazie a tutti e alle prossime gare. Bene. Bene. Sembra Mippo. Grazie Luigi. Sì, io ringrazio appunto Sapore di Toscana, Piero, la presentazione della venga, il nostro socio di Ciputroni. Complimenti a tutti voi che avete partecipato. Prima gara è anche poca Natalizia, abbiamo già fatto l'albero, ancora non è illuminato, ma è pronto insieme ad altri allestimenti. Quindi si inizia a respirare l'aria di Natale. Speriamo che per tutti sia un Natale sereno, un Natale con questi dati che vadano finalmente a migliorare, che ci permettano di vivere tutti un attimino meglio di come ci siamo vivendo adesso, anche se noi qui cerchiamo di mandare avanti le cose per quello che possiamo, rispettando quelli che sono le disciplinare del DPCM e speriamo che comunque prossimamente si alleni ancora di più la situazione. Quindi grazie a tutti voi per la partecipazione e complimenti amici voi. Primo, signores, 35 punti, Luigi Ciputroni. Grazie. Perfetto, bravo. Sì, sì, va bene. Nella seconda categoria con amica per il gioco da 21 a 36, secondo netto con 36 punti, Rudolf Mosimann. Bravo tutti. Ottimo, Carlin. Facciamo vedere anche l'alberino. Sono vosso quest'anno. Grazie. Bene, perfetto, perfetto. Già fatta, basta, basta, via, basta. Primo netto di seconda categoria con 41 punti. Primo, bravo. Guido Paolo Gamuzzi. Il più forte velista che abbiamo, eh. Il più forte velista pluripremiato, eh, ricordiamolo. Prima categoria anti-KG, gioco fino a 20, di secondo netto con 36 punti, Claudio Bruni. Bravo. Bravo. Grazie a tutti. Bravo. E se qualcuno è tutto a posto, si sa mai, non è. Vince il primo netto di prima categoria con 37 punti, Fabio Rosso. Bravo. Bravo. ha dominato la prima categoria vincendo il nord con 40 punti netti Romeo Falloni bravo 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 che piccolo stagio che hai guarda che c'è che è vinto ragazzi bravo bravo